La parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovromani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Di cosa stiamo parlando Claudia? E' stato proiettato in anteprima al Cinema Masetti di Fano il cortometraggio La Regina dei Social, prodotto dalle Aclimarche nell'ambito del progetto dedicato alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Abbiamo centrato un progetto sulla prevenzione, prevenzione all'abuso e prevenzione anche alla dipendenza perché ci sono anche situazioni che poi vanno verso forme di patologia. Questa va bene. No, è bruttissima, guarda, non t'ha azzardare a pubblicarla. È bruttissima. Ma dai, devo farci qualche risata. Ma qualche risata, qualche risata, dai che mi rovinate il profilo. Sapete quanto ci ho messo ad arrivare a 5.000 follower? Il corto, girato prima del lockdown, è un'opera del regista bosniaco Ado Asanovic che racconta uno spaccato della vita delle giovani generazioni che si scontrano con i loro problemi. Come quelli di questa giovane ragazza alle prese con una duplice vita, quella tra i suoi amici e quella sui social con i followers. A un certo punto la vita virtuale prende il sopravvento fino a farla sentire in trappola. I ragazzi erano molto entusiasti. Praticamente i ragazzi erano protagonisti di questo cortometraggio. Non ero solamente io il regista perché anche loro erano registi insieme a me, erano direttori della fotografia o fonici perché facevamo tutto insieme dall'inizio. E i protagonisti, tutti non professionisti, sono i giovani dell'oratorio delle ACLI e dell'istituto professionale Donoreone di Fano che prima di cimentarsi nella recitazione hanno partecipato a laboratori formativi dove hanno potuto riflettere sui rischi e sulle opportunità dei social. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il telefono, il cellulare o i social network è pane quotidiano per noi ragazzi perché alla fine vivi di Instagram, Whatsapp, tutto. Anche se a parer mio molto spesso queste cose rovinano, però ormai si vive in questo mondo. Ciao! Ciao a tutti i spettatori di Fano TV, questo è il cast della Regina dei Social e vi invitiamo ad andare a guardare il nostro cortometraggio in tutte le sale. Cioè, vedi proprio me? Sì. È bellissimo. Ecco, è bellissimo che io ci veda. Ti posso chiedere un favore? Sì. Ci facciamo un selfie? Magari un'altra volta, adesso meglio di no. Ok. Allora entriamo, dai che è tardi.